Maria Fida, figlia maggiore di D'Aldo Moro, ha pubblicato una lettera destinata a suscitare un certo clamore a livello politico. Sì perché sia lei che il figlio Luca hanno deciso di aderire alla raccolta firme lanciata da Giorgia Meloni per la mozione di sfiducia contro Giuseppe Conte. Rispedire al mittente l'attuale governo è la missione di Fratelli d'Italia, le cui ragioni sono state appoggiate anche dai discendenti di Aldo Moro. Un'intera generazione di studenti, scrive la figlia, ha già perso oltre sette mesi di scuola e, se va tutto bene perderà un altro anno. L'economia del nostro paese è stata azzerata, bonus o non bonus. La gente è terrorizzata a causa della mancanza di informazioni chiare e precise. Siamo tutti agli arresti domiciliari, non sappiamo fino a quando. È stato eroso il potere sovrano del Parlamento e cancellati, come se fosse normale, i diritti inviolabili dell'uomo. Il governo faccia al meglio il proprio lavoro, cosa che finora non ha saputo fare, invece di tiranneggiare gli italiani. Poi la signora ha ricordato che sui padri è stato ucciso in nome della libertà, dove sono gli uomini liberi. Venite a firmare o i morti di tutte le guerre saranno morti in vano. Grazie a tutti.